Va da 1 a 10, se ne vuole dare 12 però, decida lei, 10 ne basta, chi l'ha pettinata signora? Fatto da sola, si vede, va bene, si faccia vedere signora, in tutta la sua bellezza, ma soprattutto voi non avete notato la pelle, capiamo signora, un applauso alla signora, come si chiama? Guardate Rina la sciccheria, le mani, faccia vedere le unghie, lei è all'ultima moda assoluta, perché lei magari non lo sa,